E ragazzi, disastro ferroviario, capitolo 12, siamo ripartiti praticamente dall'inizio. E io penso che Clo in questo momento sia forse l'ultimo dei problemi, ma questo è per noi un flashback, ma in realtà il flashback c'è stato dopo questo evento perché siamo tornati nel più presente che presente non si può. Ma anche il fatto che io devo salire da qualche parte se è possibile. Bene, adesso casca il sasso, lui torna giù, casca il tubo. Eh, ma l'abbiamo già visto ragazzi. Dovrebbe staccarsi anche la rotaia adesso. Non è che ve lo voglio spoilerare ragazzi, abbiamo giocato veramente pochi giorni fa. E poi magari uno nel 2009 quando è uscito questo gioco poteva anche pensare che si fosse buggato e fosse ripartito da capo. In realtà no. Adesso si storce e si gira, vero? Esatto. Boom. Grappati. Non li fanno più come una volta. Evidentemente no. Merda. Ai. Cos'altro può andare male? Cioè, diverse cose possono andare male in questo momento. Speriamo che arriva. E dai! Vabbè, è inutile dire che Chloe la salveremo. Non è neanche uno spoiler però. C'è la scaletta lì. Non è un buon segno. Evidentemente no. Ma abbiamo schippato tutta la parte dove risale i... Aia. Ricordo che qua c'è da correre. Ha schippato tutta la parte dove... Dove si sale per i seggiolini. L'ha schippata tutta. O di cui ci sta, eh? Perché era abbastanza lunga. Morto. Sepolto. Stecchito. Invece no. No, mobile. Addio. Ok, ripeto. Scena già ampiamente vista questa. L'acqua. Allora. No. 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 Ecco Questo mancava Questo mancava Quando l'abbiamo giocato ragazzi Con M4 O il fall Quanto mi manca Dai ti ascolto dire a sto fuzz Naughty Dog però potevi farci qualcosa Oh perfetto vieni un po' qui Vieni qua che ti vizio vieni Bello così dall'angolo Deve essere perfetto Deve essere da qualche parte Boom Zitto Bonoli Dove sono gli altri Oh merda Vieni qua Dai che ti avvicini Dai No stai andando dalla parte sbagliata Fra Sono qui Perché non c'è il modello da fischio come Assassin's Creed Che palle Potrei sparare un colpo Per attirarlo Ma combinerei più danni che altro E va dall'altra parte Che due coglioni Ma è una gioia proprio Ok Buono Uno a meno Io c'ho la M4 Che non mi interessa Sono io Lui però non si muove Ehi Merda Eh ma hanno visto Non doveva succedere Perché non 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 iscardina dall'alto C'è solo se ti sta rampicando E secondo me non c'ha senso sta cosa Chi è l'altro coglioncello lui Cioè lui non mi aveva visto Che culo che aveva avuto però Eh però la bomba c'è arrivata lo stesso Fatevi sotto Eh no Ma che è la torretta Merda Ah loro là Ok Ricarica Oh Un colpo secco e duro L'ho visto fra Maestro lancia la bomba E muori Muori tu Muori tu Eccolo Più siete meglio è Oh cazzo Come più siete meglio è Ma tu sei masochista proprio Ho il pugnale Si ho il pugnale Quindi No qua non è un posto dove andare Non è un posto dove andare Già è bianco Più si diventa bianco e nero Ci vedo ancora peggio Ciao Fuori uno Un po' un altro Ok Ok Bene Bene E se vediamo delle munizioni Se è possibile Grazie Oddio beh A livello di munizioni È che si è ammessi Chissà quanto bene Però l'M4 C'ha qualche colpetto in più Ma che arriva Massimo a 61 Eh no eh Ciao Anti son mosso È stato un piacere La bastardola Via L'altro Anti son mossa Sento di ricaricare Dopo il momento più sbagliato Della storia dell'umanità Dov'è Vai Vabbè se li colpisci in testa È easy Anzi Devo dire Muoiono più facilmente loro Che altri Gli devi Li devi solo scappellare Ovvero Togliere il cappello Ok Nathan Molto bello Però Non vorrei tu mi morissi qui Può essere Aspetta Posso arrampicarmi là Ok Può arrampicarti là Perfetto Magari Senza morirmi Che Ho bisogno di tutto A meno che di quello Adesso Ma ci arrivi Immagino Immagino il freddo Che ci sia Tipo Meno 68 gradi Saranno Come che sangue Mi decido Ad arrampicarmi Eh Eh ma Arrampicherei Sai La merda È freddo Vabbè C'è qualcosa di coperto qua Lo stiamo perdendo Ragazzi Lo stiamo perdendo De Rick Lo stiamo perdendo E l'abbiamo quasi perso L'abbiamo perso Oh Pastore Chi è Achille di Assassin's Creed 3 Lui È lì che ci guarda Enerme Fai qualcosa No Dora Dora l'esploratrice Lei Come sono finito qua Ti ha voluto bene Ti ha voluto bene Ok No 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 Grazie Basta così Mi dispiace Io non capisco Connor Kenway Connor Kenway Ah raga è lui È Connor È Connor Kenway Grazie Io Sì Sto sicuro Nel Sì Oppure Sjo potrebbe dire Lavati dai coglioni Potrebbe dire anche quello Dove diavolo sono? Beh, è un posto carino però, eh Forse dovrai seguirlo Capitolo 16 Dove sono? Eh, è un posto, ripeto Se è carino